Aveva in casa armi alterate e clandestine, oltre a numerose munizioni, il 75enne pulsanese Bruno Fina, pensionato e censurato, arrestato dai carabinieri di Pulsano e Fraganiano. I militari, durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, hanno trovato, occultato nella camera da letto, un fucile a canne mozze calibro 16 con matricola a brasa ed una carabina ad aria compressa. In un garage attiguo alla casa, inoltre, c'erano anche una pistola semi-automatica marca Beretta calibro 7,65, una pistola giocattolo calibro 8 priva di tappo rosso e di occlusione presumibilmente funzionante, tre pistole giocattolo con tappo rosso, nonché 104 proiettili calibro 7,65, 108 proiettili calibro 8, di cui 99 assalve e 16 cartucce calibro 16. Le armi alterate e clandestine saranno sottoposte da certamenti tecnico-balistici, finalizzati a stabilirne la provenienza e l'eventuale impiego in atti criminosi. Il 75enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato ristretto nel carcere di Taranto.